Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Lori Frost e oggi siamo sull'ultimo episodio di Clash Royale della sfida classica, carta in tavola. Oggi andremo a finire le ultime tre partite, quattro, e andremo ad aprire il baule. Andiamo ad aprire il baule d'argento, blocchiamo questo, e andiamo a fare queste partite. Ok, moschettiero scelgo, la strega, il drone infernale, e il gigante royale, ok il deck per adesso è equilibrato, vediamo, ok il razzo, perfetto, io direi già di attaccare il gigante royale, io direi già di metterlo qua. Ok, non è niente lì, per esempio. E' un boschettiero, ragazzi. barbari, che è già morto, lui c'ha il dravetto, però il barbari c'ha arrivato, uno c'ha di metterlo qua. Perfetto. Ah, non gli ho fatto molto, vediamo. Dai, drone infernale, dai. Grandissimo, gli abbiamo fatto un casino di danno, gli abbiamo fatto. questo. Ok, adesso direi di il gigante royale, lui dovrebbe avere il dravettino. il boschettiero l'ho usato adesso, lui. Ok, adesso preparo il dravettino infernale. Ok, la torre me l'ha buttato giù. Ok, adesso sarà abbastanza facile. e io mi arrivo a toccare di altaventura della centrale. Aiuto. Ok, andiamo a fermare. Lo so adesso. Ok, andiamo a fermare. Oh, che lui ha l'amenducido, se non sapega E se non può, ecco, tutto Alla Persa Abbiamo perso questa partita Dobbiamo vincerle le altre ragazzi Perché se no Davvero Andiamo a fare L'altra partita Scarica Questo E poi direi Goblin Mettiamo i goblin Ok Vediamo un po' Le carte che abbiamo Abbiamo il barile Il goblin Possiamo già La principessa Coincidenza Non mi credo Ok Oh il mortaio Vieni 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 Mortaio Non ci posso Queda su Queda su adesso io direi di spagnare un po' di alisir ok, li attaccare di barilla ok, con la morte non ci passo mortale per bombardare questo partito l'abbia un viento ok, siamo a 9 vittorie dobbiamo registrare altre 3 partite dobbiamo fare e questa è la mano le scheletrini che sono utilissime ok, lui c'ha tutti in mente stregone buon noce ok magari per adesso mando un po' avanti come vedete abbiamo il gigante royal lo stregone e la strema lui ha il golem però e c'è anche il gigante vabbè ci metto un attimo ok abbiamo difesa benissimo benissimo sono i golem i miei sono i miei stigioni che lo stagione ha attaccato la torre mettiamola c'è un minaccio no magari io un razzo inutile tanto la torre non ci arriva ok ok per adesso stiamo andando benissimo bene stiamo andando molto bene facciamo partire gli scheletri che serviranno molto ok 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 Oh, fortuna che ci ho mancato E' una sfera enfocata Non manca di due Però tanto adesso muove Ok, formaggio E anche questa partita l'abbiamo vinta Ho messo in pausa per non annoiarvi Nella scelta delle carte Per risparmiare anche tempo Così la finiamo oggi la sfida Comunque abbiamo la strega, lo specchio, il gigante royale, la velena, le flacce E poi le altre no Utilissima la specchio Tanto adesso la strega da uccidere Questa è il gigante royale Dovrebbe avere la schiavitra gigante lui perché l'ho esclusa io come parte Ok, con gli sgherri scegliono la torre Fanno male Ok, con gli sgherri scegliono la torre Voglio vedere due streghe quanto danno fanno Che spreco mamma mia Vabbè lui ha sprecato il raggio Non so giocare davvero questo qua Mando un po' avanti Abbiamo vinto anche questa partita Siamo alla undicesima E ragazzi questa è l'ultima partita Adesso metto in pausa per scegliere le carte Dopo ci rivediamo subito all'id Eccoci qua Questo è il mio mazzo come vedete Non è fortissimo però Dio di notte la Il barulio Più questo Ok, sembra che il deck non sia fortissimo Il nostro Ragazzi Sono riuscita a vincere È stata un po' lunga Come partita Adesso vi faccio vedere il replay E direi di aprire il baule Lasciate tanti like Mi raccomando per questa serie Sono riuscita a vincere Due volte consecutive Il baule E andiamo subito ad aprirlo 2.000 donne 21 comuni 29 39 E lo scheletro gigante Ragazzi direi che il video può finire qui Lasciate tanti like e commentate Apriamo questo baule E ci vediamo nel prossimo video Bella raga Grazie a tutti